Buonasera a tutti. Questa sera vorrei parlarvi di aromaterapia che è la scienza che basa la sua efficacia sull'utilizzo di oli essenziali applicati sulla cute e il principio sulla quale si basa l'aromaterapia è il fatto che gli oli essenziali che vengono applicati sulla cute hanno un alto potere di penetrazione a livello del nostro tessuto per cui sono molto attivi come principio attivo rispetto ad altri prodotti che possono essere applicati sulla pelle. Vediamo di raggruppare in quattro le funzioni principali degli oli essenziali. Noi conosciamo gli oli essenziali soprattutto per l'utilizzo che ne facciamo per esempio per profumare i nostri ambienti, le nostre case, le nostre scarpiere oppure la biancheria. Esistono anche delle azioni degli oli essenziali per così dire azioni da contatto proprio perché vengono applicati sulla pelle e sono le azioni diciamo più mediche, più scientifiche. Allora per la medicina naturale gli oli essenziali si classificano in oli essenziali con potere antinfiammatorio perché ci sono un gruppo di oli essenziali che possono essere utilizzati per esempio applicati su piccole ferite o lesioni perché funzionano molto bene come antibatterici, antivirali ma anche come antimicotici. Un'altra azione molto importante degli oli essenziali è quella di essere lenitivi e antinfiammatori. Per esempio l'olio di camomilla è molto utilizzato come lenitivo quindi azione antirossore, antiezema, antidermatite su tutto ciò che riguarda la nostra acute. Una terza azione non meno importante è quella di essere degli astringenti e purificanti. Praticamente sono quegli oli che vengono utilizzati per esempio nella cosmetica per le pelli acneiche oppure per problemi di cuoio capelluto eccessivamente grasso. Allora gli oli essenziali sono svariati per cui bisogna sempre fare attenzione quando vengono utilizzati perché potrebbero anche causare degli effetti collaterali. Per esempio la quarta azione importante degli oli essenziali è quella di essere rube facenti. Esiste un gruppo principale che è costituito prevalentemente dall'olio di canfora, l'olio di maggiorana, l'olio di menta, l'olio di cannella e l'olio di timo che sono detti rube facenti perché possono provocare del iperemia a livello della parte trattata. Quest'iperemia va a lavorare sul microcircolo e favorisce l'eliminazione di tossine e di scorie a livello dei nostri tessuti. Questo è un vantaggio e quindi questi oli possono essere utilizzati per esempio per massaggiare la muscolatura per l'attività sportiva. Però bisogna fare attenzione soprattutto con i due rube facenti puri che sono il timo e la cannella perché possono dare problemi applicati puri sulla pelle delicata e sulla pelle dei bambini soprattutto. Quindi ricordate che gli oli essenziali soprattutto il gruppo dei rube facenti non va mai applicato puro se non prima dietro consultazione del vostro medico di fiducia o del vostro farmacista di fiducia. Potete usare gli altri oli prevalentemente vengono quasi tutti utilizzati per uso esterno quindi sfruttandoli per le loro proprio attività di elevata penetrazione senza problemi. Arrivederci e buona serata.